La Pieda Ringadora si trova in Piazza Grande a Modena, è un monumento molto antico, si tratta di una grande masso a forma rettangolare, oggi vicino al palazzo comunale. Il termine significa pietra che ringa, il nome potrebbe derivare anche da Redandora, in questo senso il riferimento sarebbe al debitore, che a forza veniva portato sulla pietra per la restituzione dei beni da lui truffati ai creditori. Per questo motivo nel 1400 la pietra inizia ad essere usata come pietra del disonore, nel corso dei secoli ha subito vari spostamenti, ad esempio nel XVII secolo viene spostata provocando l'alimentare dei mercanti che gli esponevano la propria merce. Nel 1820 fu collocata ai piedi della Ghirlandina, nel 1912 fu trasferita nel palazzo dei musei e infine nel 1936 la pietra ritorna nella sua collocazione originaria, dove ancora oggi possiamo vederla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.